Di Keanu Reeves sappiamo che è nato in Libano e che era dislessico, abbandonò gli studi a 17 anni e non si è mai diplomato. Per mantenersi ha lavorato come affilatore di pattini da ghiaccio, boscaiolo e ha fatto il dipendente in un negozio di pasta. Ma più di tutto è un grande attore col cuore grande, famoso per le sue interpretazioni Matrix e John Wick. Ciao, sono Valerio Novara. La sua carriera nella recitazione inizia con piccoli film indipendenti, il primo fu Belli e Dannati, in cui interpreta un ragazzo che si prostituisce sia per uomini che per donne. Poi ci fu Point Break con Patrick Swayze, forse il primo film che lo rese famoso. La sua carriera però inizia a decollare con L'Avvocato del Diavolo, in cui recita al fianco di Al Pacino e Charlie Sterone, ma è nel 99 che la sua vita cambia, quando gli viene proposto il ruolo di Neo per un film che cambierà per sempre il modo di fare cinema, Matrix. Pochi sanno che inizialmente la parte di Neo era stata scritta per Brandon Lee, il figlio di Bruce. In seguito alla morte dell'attore del Corvo, però, il ruolo venne prima offerto a Johnny Depp e poi a Will Smith, ma entrambi rifiutarono e la scelta ricadde su Reeves. Arriviamo al 2014, quando inizia la saga di John Wick con il primo film. La storia è semplice, sembra scritta per uno come Liam Neeson, ma il regista vuole a tutti i costi Reeves. Parla di un ex assassino che si è ritirato per vivere con la moglie, la quale però muore a causa di un male incurabile. Come ultimo regalo della donna, John riceve una cagnolina pochi giorni dopo il funerale, alla quale si affeziona molto. Un giorno, mentre si ferma a fare di fornimento con la sua Ford Mustang del 69, viene notato da un ragazzo russo che vuole comprare la vettura a tutti i costi e riceve da John un secco rifiuto. La stessa notte, il giovane e i suoi compari si intrufolano in casa di John, lo picchiano brutalmente e gli rubano l'auto, non prima di aver ucciso la sua amata cagnolina. La vita di Reeves non è stata tutta rosa e fiori. Pensate che nella notte fra il 30 e il 31 ottobre del 93, durante una festa di Halloween organizzata al Viper Room, club di proprietà di Johnny Depp, perse la vita il suo migliore amico, River Phoenix, fratello di Joaquin, che morì per overdose all'età di 23 anni. Nel 99 l'attore si fidanza con la collega Jennifer Sieme, dalla quale avrà una bimba che però morirà pochi giorni dopo la nascita a causa di una malformazione al cuore. Questa tragedia influirà negativamente sulla coppia. I due si separeranno ma resteranno comunque in buoni rapporti. Arriviamo al 2 aprile del 2001, quando perde la vita anche la stessa ex fidanzata in un incidente d'auto. La causa è un mix che era stato assunto dalla donna di antidepressivi e anestetici. Ma i problemi di Reeves arrivano da lontano. Abbandonato dal padre a tre anni, ha avuto tre diversi padrigni e in adolescenza ha dovuto rinunciare al sogno di fare il giocatore di hockey per un grave infortunio che gli ha impedito di continuare la sua carriera sportiva. Negli anni successivi poi si dovette occupare della sorella, che era malata di leucemia. Un esempio del grande cuore di Reeves è il gesto d'amore mostrato durante le riprese della casa sul lago del tempo con Sandra Bullock del 2006. Un giorno tra una scena e l'altra Chiano sentì la guarda rubiera del cast piangere raccontando ad un'amica di come avrebbe perso la propria casa se non avesse pagato 20.000 dollari, che però non aveva. Lo stesso giorno Reeves versò sul conto della donna l'intera sogno. Con il successo ottenuto da Matrix invece Reeves guadagnò tantissimo denaro, come c'era da aspettarsi, ma decise di donare ben 50 milioni di dollari allo staff addetto ai costumi e agli effetti speciali, da lui definiti i veri attori della trilogia e a suo parere sottopagati. Terminate le riprese regalò ad ogni stuntman del film un Harley Davidson, spendendo in totale oltre 75 milioni di dollari. Nel 2010, in occasione del suo compleanno, alcuni paparazzi lo sorpresero a gustarsi in solitudine una brioche con una candelina sopra nei pressi della pasticceria in cui l'aveva acquistata, offrendo un caffè a tutti coloro che entravano nel locale o che si fermavano a chiacchierare con lui. E poi la beneficenza, le donazioni, tutti i gesti per i quali Chiano Reeves non si è mai vantato e che lo rendono una vera e propria icona della storia del cinema. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questa storia e se vi piace, come attore e come uomo soprattutto, iscrivetevi al nostro canale YouTube C'è a Ciazione, seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni pubblichiamo news, approfondimenti e curiosità che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!